Oltre le mura della Salpetriere, nei salotti e nei caffè, si fanno illazioni su come possa essere il reparto di Charcot, detto il reparto delle isteriche. Immaginano donne nude che corrono nei corridoi, sbattono la fronte sul pavimento, allargano le gambe per accogliere un amante di fantasia, urlano a squarciagola dall'alba al tramonto. Descrivono corpi di pazze che scoppiano in convulsioni sotto lenzuola bianche, espressioni alterate sotto capelli irsuti, facce di vecchie, di obese, di brutte. Donne che è sacrosanto tenere a distanza, anche se non si sa bene perché, visto che non hanno arrecato offesa o commesso delitti. In quella gente spaventata dalla minima eccentricità, che siano borghesi o proletari, pensare alle alienate eccita il desiderio e alimenta i timori. Sono affascinati e inorriditi dalle pazze, ci resterebbero sicuramente male se andassero a fare un giro nel reparto in quella fine di mattinata. Nell'ampio dormitorio le attività quotidiane vengono svolte in tutta calma, alcune donne passano lo straccio sotto i freletti metallici, altre si lavano col guanto di fronte a un lavabo d'acqua fredda. Qualcuni è a letto, schiacciata dalla stanchizia e dai pensieri, in una voglia di parlare con nessuno. Qualcun'altra si spazzola i capelli parlando da sola sottovoce o guardando dalla finestra il sole che illumina il giardino in cui resiste ancora un po' di neve. Sono di tutte le età, dai 13 ai 65 anni. Sono brune, biondi o rosse, magre o grasse, vestite e pettinate come lo sarebbero in città e si muovono con podore. Lunghi dall'essere l'ambiente depravato di cui si fantastica l'esterno, il dormitorio sembra più una casa di riposo, che è un'ala dell'ospedale dedicata alle isteriche. Solo guardando più da vicino sopravviene il turbamento. Si nota una mano chiusa e ritorta, un braccio contratto contro il petto, palpebre che si alzano e si abbassano veloci come il battito d'ali di una farfalla. Certe palpebre sono chiuse da un lato e quello che guarda è un occhio soltanto. Ogni suono di ottonio, di apason e bandito, per evitare che alcune crollino sul posto in piena catalessi. Un'alienata sbadiglia in continuazione, un'altra è preda di movimenti incontrollati. Si vedono sguardi abbattuti, assenti o immersi a una profonda malinconia. Poi, di quando in quando, il famoso attacco isterico viene a scuotere il dormitorio, nel quale aleggiava una calma temporanea. A letto o per terra, un corpo di donna si piega, si contrae, lotta contro una forza invisibile, si dimena, si narca, si torce, tenta di sfuggire alla propria sorte senza riuscirci. Il personale medico le si fa intorno, un infermire le applica due dita contro le ovaie e a poco a poco la pressione calma la pazza. Nei casi più gravi le viene applicata sul naso una garza imbevuta di etere, allora la donna chiude gli occhi e la crisi cessa. Non c'è nessuna isterica che balla scalza nei corridoi freddi, solo una preponderante battaglia muta e quotidiana per la normalità.